Siamo qui tra il Rifugio Sierra e la Forcialla Cresta Forada, sopra Sappada, in una zona dove si è aperto un canyon, in cui in questo canyon si vede la stratificazione molto ripiegata, quindi una zona di intensa attività tettonica, probabilmente siamo nelle vicinanze di una faglia o proprio ai margini di una faglia, e questa ripiegatura, questa in parte frantumazione degli strati probabilmente ha fatto sì che per questo motivo il canyon si trovi proprio qui, cioè l'acqua abbia trovato qui delle rocce più facilmente disgregabili e erodibili, e quindi la sua azione è stata maggiore in questa zona del pendio che non in altre, poi ovviamente si incanala qui e continua sempre di più a scavare.